Per me è un paradiso alle porte di Milano, è un paesaggio tutto collinare che ospita da secoli la tradizione della vitivinicultura. Un amore infinito, questo è ciò che provo pensando il mio territorio. È l'Oltrepopavese, la prima zona in Italia per coltivazione di pino nero. È una terra molto generosa dove la passione per il vino ha una vocazione millenaria. La prima bollicina metodo classico di pino nero è nata qui nel 1865. Il rispetto per la materia prima è fondamentale per riportare la qualità del nostro territorio nel carice. Lavoriamo i nostri vigneti con sempre più amore ogni anno. Il clima e il tempo sono le uniche variabili che comandano. Momenti di gioia ma anche di fatiche. Ci vuole tanta pazienza e bisogna aspettare anni e anni. Però poi la soddisfazione è immensa quando le persone scelgono di condividere le loro vite con le nostre bottiglie. Mi chiamo Cristina e sono una produttrice di vino.